Iniziati nei primi mesi del 2022 e poi interrotti nella stagione estiva, i lavori di consolidamento, riparazione e manutenzione delle scogliere di Montesilvano sono finalmente ripartiti. L'esecuzione del progetto a difesa del litorale era atteso dal 2003 e nonostante i lavori fossero stati finanziati dalla regione già nel 2019, l'avvio degli stessi fu ritardato anche a causa della pandemia. Ora invece, dal punto di carico situato al ridosso dei grandi alberghi, sarà prelevato il materiale che servirà a consolidare le scogliere lungo tutto il litorale, come spiega Riccardo Padovano, presidente di Sib Abruzzo. Questa è una manutenzione, diciamo, ordinaria. Quelle scogliere sono lì dal 2003 che non sono state mai rifiorite. Adesso ci aspettiamo che il megaprogetto che è in atto tramite la regione Abruzzo, il famoso progetto Ricama, si chiama Ricama perché vuole ricamare tutta la costa abruzzese. Mettamano definitivamente sulla città di Montesilvano e cioè prendono tutte quelle scogliere che sono al ridosso delle spiagge e mi riferisco nella zona dei grandi alberghi fino ad arrivare a via Marinelli, fino alla Conchiglia Azzurra e così fa un allineamento costiero che è tutto lineare e con un intervento di ripacimento Montesilvano possa tornare a gioire come merita una città di 60 mila abitanti con 600 mila presenze turistiche e francamente non poteva essere emarginata, tenuto conto che in altre realtà dei comuni costieri della nostra regione ci sono a volte finanziamenti nel corso dell'anno uno, due, tre, quattro cose francamente Montesilvano è stata un po' messa all'angolo, questo non va bene. Chiedo adesso al comune di Montesilvano e anche alla regione Abruzzo attivare subito questo progetto che è di diversi milioni di euro che sono stati stanziati in modo che almeno per l'ottobre 2000, primavera, la progettazione, ottobre 2023, inizieranno i lavori e daranno diciamo quello che si merita alla città di Montesilvano. Ma questi lavori poi serviranno finalmente anche ad evitare i danni delle mareggiate come le ultime che abbiamo visto? Purtroppo il mare si è alzato di circa 50 centimetri, quindi il livello del mare è salito. Io invito i balneari a capire che forse su questa tematica qua dobbiamo partecipare, vogliamo far arrivare nella mentalità delle imprese balneari che le opere di difesa mare, un contributo economico lo dobbiamo incominciare a pensare. Come fanno i colleghi nostri cugini romagnoli, loro d'inverno fanno delle dune di sabbia, cioè si attivano per mantenersi quel litorale, noi non dobbiamo aspettare che arrivano gli interventi, incominciamo a fare noi la manutenzione, poi l'intervento di massicci li farà lo Stato.